eccole buongiorno buongiorno a simona cornacchia e anna russo siamo veramente contenti di avervi poi la preparazione è stata lunga una settimana con raffaella spizzichino io amo tantissimo farmi raccontare da lei le persone che poi intervistiamo nel nostro format ragazze mi permetto di chiamarvi ragazze perché per avere una mente così creativa e magica nel pensare a questo lavoro che uscirà il prossimo 25 gennaio quindi è imminente oggi parliamo di arf benvenute a radio in grazie grazie per l'ospitalità vi raccontiamo un po come funziona da queste parti noi siamo a cavallo tra la radio quindi l'ascolto soltanto attraverso l'audio e invece la radiovisione quindi quando c'è la musica alla radio quando ci sono i brani come in questo momento c'è il pubblico di facebook che ci può guardare ma il pubblico della radio in realtà ancora non vi ha conosciute non ci ha ascoltati quindi fra un minuto e mezzo vi ripresenteremo in maniera tale che il pubblico della cara vecchia radio possa prendere consapevolezza di quello che stiamo anticipando in questi minuti intanto vediamo qui questa bellissima locandina la nostra forza ragazze è soprattutto la diretta facebook che ci consente di mostrare immagini foto ma anche soprattutto disegni e quindi oltre a fare un test di collegamento che va bene io vorrei fare una presentazione ufficiale poi per chi ci ascolta anche alla radio chiediamo al nostro marco di farci rientrare nonostante ci sia renato zero sotto e quindi penso che non me lo farà spuntare neanche un pochino ma ci proviamo dai dai e lo so che ti uccidiamo ma dobbiamo rientrare era renato zero con nessuno tocchi l'amore non potremmo trasformare nessuno tocchi open day cinema ogni martedì in diretta su radio in dalle 9 alle 11 i macinardo siamo pronti per continuare in questo viaggio nel mondo del cinema in tutte le sue forme dimensioni ma soprattutto quella dell'animazione che ci sta molto a cuore sono con noi due registe sono simona cornacchi e anna russo perché il prossimo 25 gennaio esce al cinema arf un lungometraggio di animazione con la colonna sonora di toni canto benvenuto benvenute simona e anna grazie grazie mille allora la mia prima esperienza radio video radio è bello questo io vorrei partire questa nostra chiacchierata poi vedremo il trailer intanto un ringraziamento alla collega raffaella spizzichino per tutti i materiali che ci ha mandato per questi 20 minuti che trascorreremo insieme e con una dichiarazione del vostro produttore che paolo rossi pisu è stata la prima esperienza nel campo dell'animazione ma la storia di anna russo e i disegni di simona cornacchia ci hanno conquistato fin dal primo momento per la qualità artistica e la forza del tema affrontato raccontateci questo questo gioiello di animazione intanto dalla storia allora inizio io perché anna aveva dei problemi tecnici mi sa non so se riuscita a ristabilire l'audio e allora si è nato tutto da intanto un rapporto d'amicizia tra me e anna e anna aveva questo progetto che portava in giro cercava già di sviluppare di trovare qualcuno interessato insomma e io ho fatto una prima prima serie di bozzetti e sono diciamo la fase di concept con cui poi cerchi di acchiappare eventuali produttori finanziatori o gli interessi insomma ed erano molto differenti da da quello che è poi il risultato finale anche se c'era in ogni caso il mood il mood il mood diciamo è lo stile che tu vuoi dare e le intenzioni in ogni caso il mood è stato prendere diciamo un design un tipo di linea ecco anna ok adesso sentiamo anche lei perfetto bene anna finisci simona e quindi parlavamo dei bozzetti sì con questo con questa serie di materiali molto basici molto sintetici di solito si partecipa a bandi si cercano appunto partner insomma c'è tutto un passaggio abbastanza lungo e emozionante anche direi e quindi da questo vincendo vari bandi trovando paolo che paolo è una sorta per noi di 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 eroe perché è una persona che finanzia anticipa comunque il costi di un film che sono una roba spropositata in film d'animazione rispetto a un film dal vero è molto più costoso a meno che non si parli di 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 grossi film a budget esagerato che sono solitamente di fantascienza guarda caso dove usano l'animazione quindi l'animazione costosa si può autoprodurre si possono fare piccole cose ora è molto più semplice rispetto a quando ho iniziato io però è comunque costosa è complessa e quindi insomma grazie a paolo abbiamo potuto provare ripeto una prima esperienza per entrambi perché io sono nel settore animazione da oltre vent'anni a fare una regia lungometraggio è tutt'altra avventura per anna anche per anna una prima volta quindi è stato un esordio un po pazzo un po incosciente però fortunato intanto perché siamo riusciti a portare a casa un film poi come andrà come sarà accolto quello è tutto una sorpresa però intanto insomma la soddisfazione c'è solo per quello beh simona a guardare io tra l'altro almeno una trentina di tavole bellissime ti faccio i miei più sinceri complimenti per anche questo 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 tocco così leggero così naturale non mai carico quindi con questi colori pastello mi hanno molto molto colpito anche vedendo il il trailer e ricordiamo sappiamo bene quanto sia complessa l'animazione in 2d in questo in questo film c'è anche qualche elemento di 3d che danno forza a un tema anna raccontaci questa storia molto particolare sono certo che tu hai voluto indossare gli occhi di un cagnolino infatti è proprio questo è stata proprio questa l'idea quella di utilizzare gli occhi di un cane che sono così puri così sinceri e che danno un amore sconfinato e tramite gli occhi di questo cane mi sono permessa di parlare di lager razzismo non voglio parlare delle valenze politiche però questo mi ha permesso di sgrossare cose veramente terribili e dargli un significato puro diverso e soprattutto trasformativo e poi c'è stata questa unione con simona che è veramente magica a della magia perché funzioniamo come un unico cervello lei trasforma le mie parole in immagini e sono esattamente le cose che io avrei pensato e poi non soltanto è veramente difficile fare un prodotto d'animazione in italia ma vanno considerati un mare di imprevisti è come andare in un mare in tempesta e forse la nostra inconscienza ma anche la nostra profonda determinazione ci ha portate fino a qui quello che stiamo vedendo adesso comunque a parte il risultato che io credo che sia magnifico è un grande riscontro da parte degli altri che riescono subito a cogliere il significato profondo di quello che volevamo fare proprio perché c'è questa fusione completa tra le parole e le immagini i colori soprattutto che simona ha usato che veramente rendono le emozioni in maniera perfetta quindi noi crediamo tantissimo in questo prodotto che è poi anche il risultato delle nostre vite speriamo che continui così noi vogliamo anche vedere alcune immagini allora facciamo sempre il nostro consueto switch c'è spazio per fiorella mannoia con nessuna conseguenza ascoltano colori quali sono sintonizzati su radio in per tutti gli altri vi ricordiamo che le immagini video di questa diretta rimarranno a vostra disposizione anche nei prossimi giorni basta cercare questa puntata di open day cinema di martedì 23 gennaio ed è proprio qui in questo spazio di facebook che possiamo vedere il trailer di arfo allora guardiamo insieme queste queste immagini c'è un sogno piccolino non si faccia ingannare è un ribelle signore e allora rinchiudetelo con i cani e giù che ti prende non si può c'è un regolamento e i bacini no non va bene non si può giocare in un posto come questo io Ian tu e si può si può raccontare anche l'orrore attraverso delle immagini che riescono a farti sorridere è una missione quasi impossibile però siete riusciti a mettere insieme questi poli veramente contrapposti è stato il vostro obiettivo fin dall'inizio riuscire a fare questa sintesi quasi impossibile sì era proprio quello l'obiettivo che poi tra l'altro è il tema costante di tutti i miei libri e di tutte le mie scritture quello sempre di vedere le cose in un'altra maniera spostare il punto di vista e le cose tutte si trasformano e riesci a raccontare storie diverse cambiare il punto di vista guarda io sono molto affascinato stamattina non vi nascondo davvero la mia emozione quando ti sentivo riconoscere Anna il lavoro di animazione di Simone e viceversa perché quando due autrici si mettono insieme poi la musica cuce e chiude un cerchio perché i titoli di coda sono sono con i disegni animati appunto di di Simona e scorrono su una canzone di Tony Canto e Simone Cristicchi ecco come li avete convinti a fare le musiche e quindi a chiudere questo bel capolavoro sono venuti sono venuti da soli ecco una raccomandazione no comunque anche la loro sensibilità alla fine che li ha portati dentro questo lavoro sai c'è stata veramente una confluenza di anime io lo chiamo così sono appassionati molti si sono appassionati e affezionati proprio sì quello è stato carino è vero c'è proprio questa cosa questa fusione dove tutti quanti hanno dato il meglio di loro e si vede certo che si vede l'abbiamo visto in pochissimi istanti di trailer non oso immaginare sono curiosissima mi dispiace non poter vedere la versione integrale nel frattempo noi in diretta streaming sulla pagina facebook di radio in abbiamo visto il trailer di arf ma continuiamo a raccontarvi questo lavoro straordinario sì perché ci sono tanti elementi questa è una settimana è la settimana della memoria è la settimana che ci deve portare anche e soprattutto con l'aiuto del di un film dell'audiovisivo in generale a riflettere e a non dimenticare mi piace molto lo dico per i tanti ascoltatori che amano i film d'animazione e questo punto di osservazione di arf che viene portato in un campo di concentramento ma lui lui non conosce la cattiveria degli esseri umani e quindi questo punto di vista anna vorrei che lo approfondissi ulteriormente guarda è proprio questa la cosa il fatto di aver spostato il punto di vista e aver preso questo bambino che cresce negli orrori cioè che avrebbe sarebbe potuto crescere negli orrori della guerra e viene portato in questo posto dove ci sono questi cani eccetera che lo allevano in un'altra maniera e quello che in realtà io volevo fare era anche sublimare il contesto storico perché sai è molto semplice dire ok questi fatti sono accaduti molto tempo fa ma noi non c'eravamo non ci appartengono invece grazie al fatto che il cane i cani non si preoccupano tanto di che colore c'ha l'altro cane no cioè magari è una questione di taglie però se un cane è marroncino l'altro è nero bianco non è che si preoccupano tanto invece noi abbiamo questo problema gravissimo di considerare le gradazioni della nostra pelle ma probabilmente dovremmo essere un po più intelligenti di un cane invece noi ce ne preoccupiamo ci dividiamo i razze così bianchi gialli rossi neri e invece un cane non lo fa quindi è questo proprio il concetto fondamentale che io volevo raggiungere cioè una storia che fosse al di là del tempo al di là dello spazio e che ti facesse veramente riflettere su quello che sono i tuoi pensieri attuali e in questo modo non ha tempo questo questo è un messaggio che può arrivare anche tra 50 anni sarebbe sarà sempre uguale e io spero che comunque non sia più così che non ce ne preoccupiamo più e che magari iniziamo a pensare anche noi come dei cani meraviglia che le tue parole a casa sono i miei figli sono due figli più due cani quindi quattro figli ho una domanda da fare a simona ma so che c'è la pubblicità vi devo chiedere se potete rimanere vorrei parlare di tecniche di animazione perché un argomento che mi sta molto a cuore e allora fra qualche istante torneremo ancora insieme in diretta con il nostro open day cinema ma mi permettete di chiedervi una cosa perché io guardo questa immagine e guardo gli occhi di questi due protagonisti e rivedo voi non so se è una mia fantasia una mia costruzione però hanno gli occhi un po più grandi io li vedo simona anche con questi colori no ma simona durante la pubblicità con eliana io cercavo di andare più in profondità e pensavo a quanta proiezione di voi stesse c'è in questi due protagonisti del film per me è totale io rappresento esattamente me stessa e soprattutto quello che io voglio dire a mia figlia perché una figlia la mia scrittura è cresciuta insieme a lei e le si chiama sara e quindi quello che io da madre voglio lasciarle voglio trasmetterle e poi c'è un'altra cosa importantissima perché con simona abbiamo tanto parlato di questa cosa che gli occhi sono lo specchio dell'anima e quindi tutti i personaggi tra virgolette positivi hanno questi occhi enormi grandi in cui tu ti puoi specchiare e ci vedi dentro l'anima la loro anima invece tutti gli altri personaggi gli occhi non ce l'hanno proprio e questa è una genialità di simona gli occhi non ce l'hanno perché non hanno niente dentro sì è molto sono stereotipi però funzionano sempre insomma senti simone però sono anche molto rigidi molto più duri nei tratti sono così tutti d'un pezzo come dire sì 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 la scelta appunto della parte dei soldati è stata quella di uniformarli come anche i bambini anche i bimbi perché comunque sono uguali sono tutti uguali bambini sentite simona volevo chiederti dall'idea alla scrittura alle tavole quindi ai disegni e poi quindi all'animazione romperti la rifacciamo per intero in radio la domanda se no poi il tempo che finisci di fare la domanda dobbiamo rientrare per la risposta e non è un gran che allora facciamo un attimo lo switch così andiamo domanda e risposta senza interruzione abbiamo ascoltato gazelle con idem e da qui torniamo al nostro open day cinema stiamo raccontando alf stiamo arf stiamo raccontando un film di animazione che ci sta incuriosendo tanto e ci sta emozionando già dalle poche immagini che vi stiamo regalando attraverso la nostra diretta in streaming anche video sulla pagina facebook di radio in un'ultima domanda siamo qui agli sgoccioli ma sì perché questo è uno dei due film che abbiamo programmato già in largo anticipo con con la collega giornalista raffaella spizzichino in una settimana che è una settimana importante della giornata della memoria per cui ero curioso un po da detto ai lavori di conoscere il processo produttivo di questo lungometraggio quindi dalla scrittura ai disegni all'animazione che arco di tempo avete coperto simona ma qui è stato un po una cosa straordinaria nel senso che l'inizio diciamo della della scrittura credo sia iniziata poi correggimi anna mi sembra nel 2018 più o meno poi ci sono state vari eventi planetari come la pandemia che ha creato non poco pochi problemi la parte diciamo pratica quindi il mio ruolo insomma allora lo sviluppo dei concept è andato un po in parallelo ma in realtà non è mai stato un inizio convinto massiccio perché nel frattempo cercavamo comunque anche delle basi solide su cominciare io ho iniziato effettivamente nel 2022 a luglio in estate quindi è stato comunque un tempo di sviluppo di realizzazione davvero breve dal punto di vista grafico e produttivo che insomma vabbè diciamo non è un vanto di per sé aver fatto una cosa in fretta e furia ma al tempo stesso ci si 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 lavora d'istinto cioè lì l'istinto al cento per cento perché devi essere molto convinto e deciso in quello che fai e questo ti fa arrivare diciamo a in fondo tutti i dubbi che possono creare davvero guai e questa cosa dell'istinto ha fatto sì che comunque venisse probabilmente una cosa più più leggera ancora perché quando ci ragioni troppo a volte appesantisci davvero le cose perdi la lucidità o il punto di vista più 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 puro ecco e comunque circa un anno e mezzo diciamo no ma Eliana c'è una è palpabile è una sintonia tra Anna e Simona veramente bella adesso la faccio io la domanda di Rito a chiusura della nostra trasmissione questo connubio sta continuando state scrivendo insieme partorirete un nuovo lavoro Anna ci sono tante idee sì sicuramente sicuramente noi funzioniamo veramente in una maniera strana e magica così come miracoloso è stato Alf e noi continuiamo con i nostri miracoli e le cose accadono poi alla fine senza che noi poi ci mettiamo tantissimo però poi accadono ce l'abbiamo già nel cuore io credo che è più questa la realtà che ce l'abbiamo nel cuore e poi dopo sgorgano escono perché è così proprio che deve essere e quindi continuiamo a creare questi miracoli e questa cosa questa sintonia con Simona è veramente un atto d'amore profondissimo che noi comunque stiamo mandando fuori a macchia d'olio e se ne accorgono Anna noi non vediamo l'ora di andare al cinema il 25 gennaio e poi questa è una settimana assolutamente rituale per cui andremo a vedere Arf è davvero è stato un grande onore e un piacere avervi nel nostro format sul cinema e chissà magari più in là ci racconterete di altri progetti insieme il nostro e l'onore è tutto nostro noi rimaniamo sempre a vostra disposizione sempre disponibili e ringraziamo tutti quelli che ci hanno aspettato fino adesso grazie infinito grazie a tutti complimenti grazie a voi grazie a Anna Russo grazie a Simona Cornacchia per essere stati con noi e grazie a Arf per essere venuto qui all'interno del nostro Open Day Cinema ancora spazio alla musica prima di voltare pagina prima di trovare altri ospiti e abbiamo voglia di ascoltare Nessun Grado di Separazione c'è Francesca Michelina su Radio In